Musica Oggi è martedì 8 maggio e questa è la rassegna stampa di Fano TV Buongiorno a tutti cari telespettatori e ben ritrovati come sempre in tanti, tantissimi al mattino alle 7.30 in diretta Ma anche durante le repliche che vengono proposte nel corso della giornata, ve le ricordo velocemente, fino alle 8.30 Poi c'è la Santa Messa, il ritorno dalla Santa Messa di nuovo alle 9.10 con la rassegna, poi alle 11 e alle 13.30 E poi sempre disponibile sui nostri social e anche sulla pagina di internet ocranotizia.it Allora partiamo subito come sempre dal santo di oggi, vediamo il calendario Ma oggi ci ricorda la chiesa che si festeggia, si celebra la Madonna del Rosario di Pompei Perché oggi è l'8 di maggio, correva l'anno 1872 Quando un giovane avvocato, Beato Bartolo Longo, insieme alla moglie, che è la Contessa Marianna De Fusco Diede inizio alla devozione alla Madonna del Rosario Tra l'altro oggi c'è la supplica, che è una delle tante preghiere che compose il Beato Bartolo Longo Questa celebre supplica che si recita a Pompei oggi, ma anche in tutto il mondo Oltre alla prima domenica di ottobre, anche l'8 di maggio Quindi ricordatevi, a mezzogiorno mi pare Il sole è sorto alle 5.50 e tramonterà alle 20.19 Il tempo, vediamolo subito con l'aiuto della grafica della protezione civile delle Marche Che per oggi prevede cielo sereno o poco nuvoloso Con aumento della copertura nel corso del pomeriggio Nel pomeriggio sempre avremo brevi rovesci o temporali Sul settore montano centro-meridionale, sempre sulla parte meridionale della regione Intorno ai Sibillini Le temperature sono senza variazione di rilievo Per domani, mercoledì 9 maggio, ancora cielo perturbato nel sud della regione Resterà invece nuvoloso con schiarite sulla costa marchigiana E nell'entroterra centro-settentrionale Peggiore invece in montagna, giovedì 10 maggio Perché dal pomeriggio ci saranno possibili rovesci o temporali sparsi appunto nelle zone dell'entroterra Le temperature sono in lieve aumento, il tempo starà stabile per i prossimi giorni Poi la settimana prossima probabilmente tornerà di nuovo il cattivo tempo Allora vediamo di vedere quali sono le notizie più importanti dai due quotidiani Il Corriere Adriatico, l'edizione di Peso Refano e poi il resto del Carlino Cominciamo dal Corriere Adriatico In primo piano ovviamente c'è la questione delle bandiere blu Ma c'è anche questa notizia di cronaca Che riguarda una trentenne pesarese Che adesso è finita nei guai per aver procurato allarme E aver detto una bugia alle forze dell'ordine Dopo un litigio si è inventata uno stupro di gruppo Si inventa uno stupro di gruppo per impressionare il fidanzato Lei si è inventa questo stupro pur di giustificarsi di fronte al fidanzato Per la notte trascorsa fuori casa dopo aver litigato con lui Una giovane donna di Vallefoglia è dunque finita nel mirino dei Carabinieri La compagnia di Riccione che dopo averne raccolto la denuncia Chiaramente hanno avviato una serie di indagini Arrivando ad accertare però tutt'altra verità Cioè che era una bugia, che non era vero, assolutamente nulla VL e VIS, quindi lo sport ancora oggi in primo piano sul Corriere Le due facce della festa Il basket pesarese domani si gioca la salvezza a Sassari I calciatori invece della VIS già brindano la promozione in serie C Emozioni forti per lo sport, i tifosi in fibrillazione La pagina interna del Corriere Adriatico Pagina 5 Anche qui in primo piano come vedete la notizia della ragazza che si è inventata questo stupro Sotto invece come difendersi dai ladri parlano gli esperti Questa sera c'è un dibattito nella sala convegni del San Decenzio In via San Decenzio 20 con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti E alle ore 21 si discuterà come prevenire e ad affrontare i furti, le truffe E anche le tante paure che poi scaturiscono E tutto questo per la nostra sicurezza domestica La pagina di Fano invece si occupa del Corriere della banda che agiva nei distributori di carburante E che metteva sotto sopra appunto questi self service Spesso distruggendoli Una gang che è stata presa con i soldi come si legge dal titolo A Metauriglia di Fano scatta la trappola dei carabinieri Quattro romene in manette dopo il colpo all'IPMATIC 5.000 euro arraffati con il nastro adesivo L'auto della fuga bloccata prima del casello dell'A14 Domenica notte in azione militare di Osimo con l'aiuto di quelli di Fano Processo tra un mese Oggi l'accertamento invece sulla salma del vigile del fuoco Daniele Clizia Morto dopo una nuotata Giovedì intanto sono in programma il funerale La famiglia vuole chiarezza sulla morte Il caverne dice il defibrillatore subito Sarà celebrato intanto giovedì alle 16 Nella chiesa di San Cristoforo A Fano il funerale di Daniele Clizia Il pompiere fanese di 49 anni Morto all'improvviso giovedì scorso a Fossombrone Nello spogliatoio della piscina Dopo una lunga nuotata Cliente ubriaco palpeggia nel night club Mamma e figlia La madre fugge e chiede aiuto ai carabinieri L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale Ubriaco che molesta prima la titolare di un night Poi la figlia minorenne Una notte diciamo sopra le righe Per questo 55enne nato e residente a Pesaro Ma domiciliato a Riccione Finito in manette con la pesante accusa di violenza sessuale Il 55enne è stato rintracciato Mentre stava cercando di ritornare a casa Oggi comparirà davanti al giudice Mentre troverete sul Corriere di oggi Anche la notizia su una serie di incidenti Una rafica di incidenti Dove tra l'altro un ciclista è rimasto ferito Cronaca sempre da Pesaro Da Fano invece Aset la sinistra chiede un no preventivo Alla vendita per le sinergie con marche multiservizi Torna il timore di un progetto di fusione Il documento oggi in Consiglio Comunale Luzzi mette in guardia da eventuali vincoli di legge Sempre sulla pagina di Fano Riscossione e tributi Il sindaco non ha fatto niente Ne è convinto il Movimento 5 Stelle Che contesta seri per l'inerzia Sul recupero del servizio del comune Tutti in coda invece Sempre da Pesaro Per l'asfaltatura Lampo Già chiuso Il cantiere per tappare le buche Sulla Montefeltro Per gli automobilisti È stata un'odissea Però adesso sarà pure un'odissea Ma non so se siete mai passati Su questa strada Che porta Appunto la strada Montefeltro E quella vicino all'autostrada La rotatoria Era veramente impraticabile Era un pericolo pubblico Quindi va bene Se devono asfaltare Potrebbero farlo di notte Chiaramente Tutto quello che volete Però insomma L'assessore Belloni C'è una strada di collegamento importante I disagi erano stati messi Nel conto Dalla discusa rotatoria Di Borgo Santa Maria Fino al casello della 14 La via Crucis Del traffico E poi da Fossombrone Invece il trionfo Del carnevale Animerà la città Torna la suggestione Del periodo rinascimentale A Fossombrone Con la rievocazione storica Del trionfo del carnevale Da venerdì 11 A domenica 13 maggio Il centro storico Della cittadina Corso Garibaldi In testa Naturalmente Saranno allestiti A tema tipicamente Rinascimentale Stiamo parlando Del 1559 E quindi Questo evento Che è giunto Alla diciottesima edizione Organizzato dal prologo Forum Semproni Potrà dare Al pubblico presente Insomma Tutto il meglio Di questa iniziativa Che tra l'altro È anche bella Perché c'è questo corteo storico In costume Alle 21.30 Domenica Alle 17.30 C'è la corsa La corsa dei cavalli Con i cavalieri Delle contrade Insomma Una bella iniziativa Andiamo sulla pagina Di nuovo Di Pesaro Del Corriere Perché C'è la notizia Che riguarda Questo albergo Questo hotel Hotel Flaminio Famoso A Baia Flaminia Che è stato acquistato Dalla società Eras Di Pesaro Spunta un vincitore Ora si cerca Di salvare la stagione Società di import Export Di genere alimentare Si aggiudica All'hotel Che è chiuso Dallo scorso inverno La romagnola Eras Ha offerto Oltre 5 milioni e mezzo Di euro Più un centesimo E poi Gli alunni Presentano La spiaggia delle dune Questa mattina All'iniziativa Della scuola Mascarucci Da Urbino Il Rotary Premia questo ragazzo Che vedete A centro pagina Che è Il ragazzo Del drone È stata assegnata Gli è stata assegnata Una borsa di studio Di 500 euro In memoria di Paolo Signoretti Che è destinata Appunto a questo allievo Del Mattei Si chiama Matteo Fraternale E frequenta Il quinto anno di meccanica E ha realizzato Il velivolo Telecomandato E quindi Avrà questa borsa di studio Il presidente Danilo Pazzaglini Dice Nelle eccellenze Dei giovani Risiede Il futuro Di tutti E adesso Invece La questione Delle bandiere blu Perché Perché Gabice Sta in queste ore Gridando allo scandalo Per il fatto che Non ha Dopo tanti anni Preso Questo vessillo Allora Vediamo di capire Un po' meglio Nel 2018 Quindi quest'anno Sventoleranno In tutta la regione Marche 16 bandiere blu E Siamo finiti Nella classifica nazionale Quarti Perché è stata Bocciata Gabice Mare Nel 2017 Avevamo una bandiera in più Cioè 17 Ed eravamo dunque Terzi Nella classifica Nazionale Che cosa è successo? È successo appunto Che Gabice ha perso Questa Bandiera Il sindaco Di Gabice Pascuzzi Dice A noi sfugge La logica Delle assegnazioni Il nostro Mareccellente Forse ci ha penalizzati La raccolta differenziata Oppure Questi qua a Roma O non so dove Dove stanno Nella federazione Hanno letto male I dati Aspettiamo di avere La comunicazione ufficiale Che tra l'altro Non abbiamo ancora avuto Dice il sindaco E poi dopo Risponderemo E eccetera Nel frattempo Metrio Parlavo Vi abbiamo lasciato In primo piano Sul teleschermo La mappa Di tutta la costa Adriatica Con i vessilli Che sventolano Da Pesaro Vedete Fino giù A San Benedetto Del Tronto Poi ci sono Bandiere che sventolano Anche sugli approdi Per esempio A Fano Nel porto di Marina Dei Cesari Così come a Senigallia Al porto della Rovere Marina d'Orica D'Ancona Al porto turistico Di Numana A Marina di Porto San Giorgio Al circolo nautico Di San Benedetto Adesso vedremo un po' Come va a finire Però Come è successo Quest'anno A Gabice L'anno scorso Era capitato A quelli di Cattolica E infatti Sulla pagina Di Cattolica E Gabice Di questa mattina Del Corriere Adriatico Vedete il titolo Bandiere blu Il riscatto Di Cattolica Gabice fuori Dai sette big Della riviera Festeggia Il sindaco Il sindaco E dice La Valle del Cesano Crediti tributari Scusa Dopo 19 anni consecutivi Il sindaco Dice Arrabbiato Farò ricorso E poi A sorpresa Nella fondazione Rossini La nomina del sindaco Matteo Ricci La fondazione Rossini Entra Gianni Letta Come presidente Un presidente A sorpresa E davvero Entra a sorpresa Poi Sempre in primo piano Nella prima pagina L'invenzione di una giovane Mi ha violentato il branco In cinque Mi hanno trascinata Dietro il supermercato La bugia Confessata ai carabinieri Che avevano capito tutto Doveva coprire Ore di assenza E per questo Insomma E' stata denunciata A Cattolica Questa trentunenne Di Vallefoglia La pagina di Fano Invece La cronaca Presa la banda Della BMW Rossa Aveva scassinato L'IP di Metauriglia Sono quattro romeni Disposti ai domiciliari Ma sono senza fissa dimora In pochi mesi Avrebbero ripulito I sales service Di vari distributori Di benzina E poi la politica Con la Lega La Lega Che chiede un incontro Per cercare di discutere Sul prossimo candidato Sindaco Per quanto riguarda Il centrodestra Ieri era uscita la notizia Questa indiscrezione Che al centrodestra Si stava facendo Il nome di Etienne Lucarelli Che è il presidente Della Proloco di Fano A quanto pare Non piace Questo nome Alla Lega Così come A Fratelli d'Italia Mentre spende parole Decisamente diverse Per Luca Serfilippi Che giudica Il segretario della Lega Un giovane interessante Mentre Lucia Tarsi Dice Non la conosco Insomma Massimo May Che appunto Nella fotografia Vedete È il segretario E il segretario della Lega A Fano Dice Il candidato sindaco Del centrodestra Dovrà essere Una figura Innovativa E sulla stessa linea E anche Polegioni Di Fratelli d'Italia Giovedì Il funerale Invece Del pompiere Daniele Clizia Domenica Allo stadio Della Fermana All'omaggio Della curva Dei tifosi Dell'Alma Con questo striscione Vedete Ciao Drago Lo striscione Degli amici Dell'Alma Allo stadio Di Fermo Pesaro Promossa La Baia Invece Ancora no Si parla Della bandiera blu La qualità Dell'acqua È migliorata Vessillo Anche a Fano E a Marotta E sotto Sono guai E il sindaco Pascuzzi Non investe In promozione D'accoglienza Amerigo Varotti Della Commercio Critico Con il comune Di Gabice La differenza È fatta Dai servizi E dunque Non solo Dall'acqua E dalla qualità Dell'acqua Ma evidentemente A fare la differenza Ci sono spesso I servizi Che devono garantire I comuni Che vogliono Tenere questa bandiera blu Morto nel 2013 Ma la salma È ancora bloccata La famiglia Di Marco Devi Di Pian di Meleto Attende Il nulla a osta Per la crematoria Marco Devi Aveva 52 anni Quando morì In un incidente stradale La moglie Paola Si salvò invece Per miracolo Era il 22 settembre Del 2013 L'incidente avvenne Sulla Siena Grosseto Ebbene Da quel momento La vedova E i due figli Che sono residenti A Cavoletto A Cavoletto di Pian di Meleto Attendono Un timbro Della procura Di Siena Per Per sbloccare Un po' tutto quanto Poi la storia La potete leggere Sul giornale di questa mattina Insomma Il fatto è Che la famiglia Vorrebbe cremare Il corpo Di questa persona Ma non Ancora Non può farlo E sono passati Cinque anni Poi Chi non conosce Giuseppe Ottaviani Fenomeno Perché Ha 102 anni Li compierà il 20 maggio Lui è di Sant'Ippolito In provincia di Peso Urbino Bene 102 anni E Ragazzi Questo ancora corre Ancora fa attività sportiva Ancora vince Ebbene Insomma Su di lui È stato realizzato Un documentario Un documentario Su Pepe Ottaviani Il campione Ripercorre l'impresa Dell'atleta Di quasi 102 anni Davvero Straordinario E con questo Speriamo ci dia Un po' di carica Per la giornata Anche per chi ha Qualche acciacco Questa mattina 102 anni Ancora Ci si può arrivare Insomma Quindi cerchiamo Di tener duro Noi ci vediamo Stasera alle 20 e 30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Se avete segnalazioni Mi raccomando Scriveteci Contattateci Fateci avere foto Video O semplicemente Messaggi di testo Al 338 4968 250 A me non resta altro Che augurarvi Una buona giornata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti